il secondo è il primo passo qua a sinistra quello proprio davanti a tutti è ciccio? no ciccio deve andare a partire ah già chi è qua? questo è il Mauro no il primo passo passo qua a sinistra non c'è il più rovo il Mauro aveva la cuffia rossa? no 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 allora è questo no ma non quello lì è questo lo vedi a sinistra? non lo vedi a sinistra non facciamo vedere il nullo non riusciamo a vedere il nullo non riusciamo a vedere il nullo non riusciamo a vedere il nullo non si è capito chi è? non si riesce vero a vedere non c'è la foto che conoscevamo tanto qua a tutto il bianco non c'è la foto che conoscevamo tanto qua a tutto il bianco si è legno il nome quando passi non ce la facciamo ma questo non è mai male chi è? non lo so non hai capito chi è? ti arriva? questo è il primo dalle croce dalle croce poi c'è Mauro poi c'è Mauro c'è Mauro c'è il dito poi là con le poi c'è il dito monti i cambi in zona puntile in prima posizione per la staffetta numero 17 dalle croce fiorentini fiorini adrantis raresa 11 minuti e 12 secondi il tempo della prima staffetta vediamo se è confermato l'ordine di arrivo del passaggio che prima il direttore Gara aveva comunicato seconda posizione a seguire il numero 25 nuoto pinnato poi il numero 15 un Rinaldi Grigoletto nuoto pinnato vicenza ancora il 31 Gau Brinetta Orbe vediamo arrivare alla boa anche la prima staffetta femminile non c'è la faccia non c'è la signorettina ma non c'è la signorettina a limite quella di Mauro che è la prima ma circa staffetta non ce la facciamo seguire se non ce la facciamo vediamo tutti gli altri vediamo quella di Mauro basta ed ecco la prima e con la prima staffetta femminile Pugnari riceve il cambio piloti a partire Blue Atlantis Adis Ravenna Grazie Grazie. 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 Tra pochi istanti vi daremo la classifica quando siamo a 1.500 metri dall'inizio. Grazie, ci vi andrò. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.